Il lavoro del mental coach è un lavoro che ha come obiettivo quello di canalizzare, di ottimizzare le energie mentali e di tradurle in risultati, in azioni, in risultati, in comportamenti che siano funzionali a degli obiettivi. Perché un'azienda dovrebbe investire soprattutto in questo momento di crisi, in questo tipo di formazione? Forse dal mio punto di vista è soprattutto in questo momento, nel senso che una mancanza come quella ormai oggettiva di alcune risorse tradizionali e canoniche ci aiuta a mettere l'attenzione su delle risorse poco valorizzate in altri tempi, quali per esempio la persona, le relazioni, il valore del tempo. Il mental coach è un istruttore di atteggiamento atto a valorizzare e sublimare in certe circostanze queste risorse. Siamo nella sede di una società di recupero credit dell'Euroservice. Perché per questo tipo di società è anche importante puntare su questo tipo di formazione? Credo che sia comunque un'idea, un atteggiamento funzionale, soprattutto in questo momento, quello di credere nelle persone. Uno dei valori che guidano questa società, a prescindere dal business, è proprio quello di valorizzare l'individuo. In un contesto meritocratico, in un contesto di un'attività che ha in sé molte varianti, molte sfaccettature, molte chiavi di lettura. La figura del mental coach ha senso, in questo business in particolare, nel cercare di valorizzare e trovare delle chiavi di lettura, dei punti di vista, dei tagli, delle angolature che valorizzano la persona sempre nell'ottica dell'aggiungimento dei risultati e soprattutto nel rispetto di valori guida molto interessanti, molto importanti.